a a a ma e play come vecchi tempi dai dei frullino fatto? hai fatto la sua l'età? hai fatto la sua l'età? hai un'altra botta oh è duro eh? ah guarda levarlo lasciarlo ah fino all'ultimo eh? l'ultimo pezzetto è sempre quello ignorante e qua c'è la parpetto nuova no? che c'è la parpetto nuova no? che c'è la parpetto nuova? e andiamo no? come lo faccio vedere? e andiamo va